Ciao amici, oggi parliamo del tempo, o almeno iniziamo, perché è un argomento che richiede molto tempo. Cos'era una battuta questa? Forse scopriamolo insieme. Oggi la gestione del tempo è vitale, siamo tutti pieni di cose da fare e stare dietro a tutto sembra diventato impossibile. Basta guardare quante app digitali esistono per organizzare la giornata, le cose da fare. Magari le avete anche voi sullo smartphone, sul tablet o nel pc. E poi corsi e metodi di time management. È il metodo del pomodoro, chi non lo conosce? Io ci ho provato ma non funziona granché. Certo, organizzare il proprio tempo sembra davvero difficile, ma io vi dico che è possibile. A questo proposito sto preparando un corso definitivo per riprendere il controllo del proprio tempo e usarlo in modo efficace, per fare quello che ci piace, che ci fa stare bene, ci arricchisce, ovviamente senza trascurare le incombenze che tutti dobbiamo seguire. Quindi state connessi. Ma oggi voglio scoprire con voi la causa di tutti questi problemi di tempo. Perché non abbiamo mai tempo? Vorrei saperlo anch'io ma non ho mai tempo di mettermi a scoprirlo. Tranquilla, ci ho pensato io. Sì, nella mia vita personale e professionale affronto ogni giorno il problema del tempo. E tempo fa ho deciso di risolverlo definitivamente. Così ho scoperto questo. Non abbiamo tempo perché abbiamo disimparato a dare il giusto valore al tempo. Ma come Simona per me ha un valore importante. Ci penso sempre perché non è mai abbastanza. Infatti, sicuramente conoscete almeno uno di questi detti. Chi ha tempo non aspetti tempo. Ogni cosa ha suo tempo. Dare tempo al tempo. Sì, li diceva sempre mia nonna. È proprio la saggezza popolare di cui sto parlando. I nostri nonni o genitori, per chi ha qualche primavera in più come me, loro conoscevano il valore del tempo perché vivevano in modo più naturale. Erano ancora connessi ai ritmi della natura. Oggi la società moderna sposta la nostra attenzione verso l'esterno, verso oggetti e interessi che seguono ritmi diversi da quelli della natura. E così perdiamo il senso del nostro tempo. Quindi trovare il tempo vuol dire decidere cosa è importante per noi. Così diamo valore al nostro tempo e organizziamo la giornata di conseguenza. Ma se sono oberata di cose da fare, come faccio a organizzarmi? Un modo c'è e sto per dirvelo. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace? Tanti nuovi video. E per tanti altri video su crescita personale e benessere naturale basta iscriversi al canale con un clic e attivate le notifiche. Allora, ecco il trucco che uso io quando sono in ansia e ho troppe cose da fare. Mi sento oberata, sommessa e temo di non avere abbastanza tempo. Sono quattro azioni ben precise. Per prima cosa prendo un foglio e una penna. Anche io? Sì, scriviamo insieme. La seconda cosa da fare è scrivere tutte le incombenze che abbiamo in testa, proprio quelle che ci stanno facendo venire l'ansia. Scritte? Ora ditemi, come vi sentite? Bene, perché mi sento più leggera. Male, perché è una lista lunghissima. Forza e coraggio! Dopo aver liberato la mente dal gran caos di impegni e scadenze, possiamo organizzare le cose nel modo migliore, ovvero pensando non solo alle cose da fare, ma anche a noi e al nostro benessere. Così cambia la prospettiva, vero? Allora facciamo un quadro generale e poi valutiamo come agire per risparmiare tempo e averne per noi. Quindi la terza cosa da fare è stabilire la priorità di ciascuna voce della lista in base al quadro generale e poi partire dalle priorità più alte. Ecco fatto! Così ce la dovrei fare. E se non ce la faccio? Arrivi alla quarta cosa da fare. Dobbiamo fare un discorsino a noi stessi e dirci io farò del mio meglio per fare tutto, ma se non ce la faccio per qualche imprevisto sarò lo stesso in pace con me stesso. Così non vi sentirete in ansia e nemmeno in colpa e non penserete di avere perso tempo e ancora meglio non vorrete più sacrificare il tempo per voi stessi. Avrete dato il massimo e vi potrete anche meritare un premio positivo, mi raccomando. Ah io vado subito a farmi fare un bel massaggio così non perdo neanche un secondo. Brava! Ottima idea! Ed è anche un'ottima idea condividere questo video con i vostri amici per fargli seguire queste strategie e se vi chiedono dove le avete scoperte fateli vedere questo video. Ecco questa era la prima parte dei miei consigli sulla gestione del tempo per voi. Prossimamente farò un altro video sul canale con altre strategie su questo argomento. E per chi vuole risolvere la questione del tempo una volta per tutte nella sua vita, presto online un mio corso di time management e ottimizzazione del tempo. Bene, anche oggi è arrivato il tempo di salutarci. Vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao! La seconda cosa da fare è scrivere. È una battuta questa? C'è chi può.